Una festa di piazza per ricordare, per alleggerire il peso dell'assenza e rafforzare la comunità del territorio intorno ai valori che allontanano la violenza. Gaetano Montanino, guardia giurata, fu ucciso a piazza Mercato nell'agosto 2009 in un conflitto armato con due malviventi che avevano tentato di rubargli la pistola. In occasione della festa di San Giorgio, patrono delle guardie giurate, gli studenti del quartiere hanno animato una celebrazione in piazza cui ha preso parte anche la figlia di Gaetano, la giovane attrice Veronica Montanino. Gaetano era uno di noi, noi lo chiamavamo Mimmo, era una guardia giurata che viveva questo territorio, tutelava in modo particolare i commercianti e le aziende che a quel tempo comunque erano floride e molto presenti sull'intero territorio di piazza Mercato. Memoria, ricordo per non dimenticare, per lottare sempre per una maggiore sicurezza contro la criminalità, la criminalità organizzata e nel ricordare con affetto chi ha perso la vita per difendere poi alla fine la nostra comunità, la nostra città e una maggiore vivibilità. E' bello vedere tanti ragazzi entusiasti di difendere il proprio territorio.